Buongiorno e buon caffè biblico a voi. Possiamo dire che a vari livelli la nostra vita ha almeno due compiti principali. Il primo compito è costruire un contenitore, un'identità forte. Il secondo è trovare il contenuto che il contenitore dovrebbe accogliere. Il primo compito lo diamo per scontato, come lo scopo stesso della vita, il che non significa che lo svolgiamo bene. Il secondo compito, cioè trovare un contenuto per la nostra vita, è spesso più incontrato che cercato. Pochi arrivano adesso con vera pianificazione, intenzione, passione, più che altro lo affrontiamo con ingordigia. Viviamo un'epoca in cui ci riempiamo di cose, ci accapariamo tutti i contenuti possibili e siamo disposti a sacrificare il contenitore, cioè la nostra identità, pur di avere tutte queste cose. Perciò la nostra identità vera, al famoso chi siamo, spesso prestiamo pochissima attenzione come se si dovesse sviluppare in qualche modo da sé. La verità è che visti da fuori sembriamo al massimo sopravvivere con successo, ma scavando dentro moltissimi hanno identità irrisolte, sono contenitori fragili. È un male di questo tempo, di questo tempo di abbondanza, perché lo è un tempo di abbondanza. Nessuno nella storia passata dell'umanità è stato meglio di noi in termini di benessere economico e sociale, di quello che di concreto abbiamo. Il problema è che costruire un'identità, quel famoso contenitore, investe così tanto del nostro sangue, sudore, lacrime e dei nostri anni che spesso preferiamo non pensarci, lasciare che accada in qualche modo, il che sostanzialmente diventa ripetere gli stessi comportamenti di chi ci ha preceduto. Proprio così, ripetere gli stessi comportamenti di chi ci ha preceduto, i nostri genitori o chi prima di loro, ma in un'epoca diversa. Sì, perché l'uomo non esiste senza identità, perciò la prende in prestito, ripercorrendo le stesse strade, gli stessi errori o le stesse scelte di quelli prima di lui. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri, il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi, e nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono. C'è molta saggezza in queste parole di Gesù, volte in questo specifico contesto a dirimere una questione su digiuno e preghiera. Noi spesso sembriamo dire gli otri vecchi a me sono sufficienti, anche se secondo Gesù non possono contenere il vino nuovo. Secondo lui, se non ci procuriamo degli otri nuovi, il vino e l'otre andranno perduti. Gesù spingeva sempre a pensare. La nostra infatti non è una fede oscurantista, è una fede che si interroga. Gesù ci spinge a metterci in discussione, a lavorare sulla nostra identità, ponendoci difficili domande su di noi, sui nostri comportamenti, sulle nostre relazioni e anche sulla nostra fede in lui. L'invito che facciamo oggi è a curare con intenzione la costruzione del nostro contenitore, della nostra identità, facendo attenzione ai contenuti con cui scegliamo di riempirla. Dio vi benedica in questa ricerca.